Ciao, oggi siamo con Marco, guida ambientale escursionistica, per vedere un progetto fotografico molto molto interessante. Ciao, ciao David, ciao a tutti. Io sono Marco Bertolini, sono una guida ambientale naturalista, guida ambientale escursionistica per la Regione Liguria. Io lavoro, collaboro con il Parco del Begua e diciamo che tendenzialmente faccio un lavoro dove sono sempre un po' su campo. Sono abbastanza fortunato, mi sono formato da naturalista e riesco abbastanza a fare il lavoro che mi piace, a stare in mezzo alla natura e ormai è dal 2008 che fotografo, sono appassionato durante i miei studi all'università, mentre facevo soprattutto il corso di entomologia, quindi sostanzialmente studiavamo gli insetti, ho iniziato a fotografare per classificare e poi col tempo la mia passione si è trasformata ed è diventata qualcosa di più serio e quindi attualmente poi organizzo trekking, faccio workshop, quindi è diventata un continuo di quello che è la mia professione da naturalista. Nel tuo sito ci sono già alcuni tuoi scatti, scatti eseguiti con micro 4 terzi? Io sostanzialmente ho due corpi, ho lo M1 che è la macchina perfetta per le mie esigenze e poi ho un M5 Mark III che la uso un po' da muletto quando faccio magari le uscite un po' più leggere, quindi questi sono i miei due corpi. E vedo qui dal tuo sito che organizzi trekking fotografici, workshop di fotografia naturalistica e hai anche degli eventi programmi, quindi dopo metterò il link al tuo sito, chi vuole può in questo modo vedere quello che fai ed eventualmente partecipare a uno dei tuoi workshop che si tengono in Liguria. Sì, 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 generalmente Liguria anche se ogni tanto provo ad uscire soprattutto nella zona del Piemonte, adesso sto un po' studiando per organizzare qualcosa anche in qualche altra regione. Abbiamo le tue foto su Flickr, dopo metterò anche il link di Flickr, tu hai anche Instagram? Ho anche Instagram, sì, assolutamente. Allora, dopo mettiamo il link anche di Instagram ed ecco presentiamo già subito alcuni tuoi scatti, fotografie naturalistiche, ci sono delle macro, ci sono delle fotografie di bird watching e delle bellissime fotografie, se vogliamo dire, ambientate, in cui si può vedere l'animale nel suo ambiente, come anche questi bellissimi scatti. Questo scatti è eseguito con micro 4 terzi 300 mm, mi dicevi? Sì, 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 questo è stato uno di quegli incontri che si fanno la mattina presto, io tra i miei lavori da guida, soprattutto d'estate, gestisco anche i punti di formazione e alla mattina presto, magari faccio due giorni di punti di formazione, dormo al punto di formazione, esco la mattina presto per farmi giri in questi posti bellissimi all'interno del parco. E incontri di questo tipo sono abbastanza frequenti, perché con il capirolo si vede abbastanza facilmente e tra l'altro avevo preso da poco il 300, quindi è stato un ottimo modo per inaugurarlo e provarlo come si deve. È uno scatto a 6400 ISO, tra l'altro, perché ancora non era sotto il sole, quindi era abbastanza bullo. Fotografia naturalistica ambientata, che è un tema ricorrente nelle tue foto? Sì, sì, diciamo che oltre a fare, per carità, magari il close up o comunque i ritrattoni ai vari animali, a me piace per formazione dare anche qualche informazione sull'habitat dell'animale ripreso. Quindi come in questo caso, per esempio, questa è la rana temporaria, una rana alpina, che ho incontrato quest'estate quando ero in vacanza. Questo è un laghetto d'alta quota, eravamo a 2500-2600 metri, era pieno di girini, perché in questo lago queste rane si riproducono, si riproducono tra l'altro a inizio primavera, e quindi d'estate troviamo sia gli adulti in attività, ma tantissimi, questo adesso qua non si riesce a vedere bene, ma nel laghetto era anche pieno di girini. Nonostante il laghetto venisse usato anche dalle vacche per abbeverarsi, quindi poverini riescono in qualche modo a convivere, a resistere anche a questo impatto, perché le vacche sono bellissime per carità, però comunque hanno un impatto su questi ambienti naturali. Questo è un altro esempio di fotografia ambientata, è un tema come dicevamo che ricorre spesso nelle tue fotografie, perché appunto essendo tu guida naturalistica, non ti preoccupi soltanto di fare una foto che sia bella, che acchiappi dei like, però tu cerchi di dimostrare l'animale nel suo ambiente. Sì, la fotografia deve raccontare, e io cerco attraverso la fotografia di fare anche quello che faccio generalmente a parole, io mi occupo di divulgazione, divulgazione ambientale, e quindi anche attraverso la fotografia deve uscire un po' questo aspetto, che fonde alla fotografia quella che è la mia formazione e la mia passione per la natura. Trovo questo un argomento molto interessante, però guardando le tue foto io sono rimasto molto colpito da alcuni scatti macro, ad un ingrandimento eccezionale. Facciamo subito un esempio, questo qui, i piedini di un bruco, che sono veramente ingranditi in maniera incredibile. Sì, 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 diciamo che questo tipo di macrofotografia, ovvero quella che va oltre all'una uno, ci permette di entrare in un mondo veramente fantastico, un mondo di dettagli in questo caso, era un bel bruco di sfinge dell'euforbia, queste sono le sue pseudo zampe, e a vederlo così, che tra l'altro è un bel bruco, cioè di grosse dimensioni, a vederlo così magari non si riesce a percepire bene il dettaglio di come è fatta una pseudo zampa, guardate anche tutta la peluria che è presente sopra la pseudo zampa, e ne hanno diverse tra l'altro di queste strutture, e quindi invece di fare un classico scatto macro, anche perché ne ho già fatti diverse a questa specie, ho deciso di concentrarmi e in questo caso era una fotografia al 2 a 1, leggermente croppata, proprio per evidenziare le zampe e come si tengono ai loro supporti, questa è la sua pianta nutrice, che è la leoforbia cipressina. In questo caso abbiamo una formica che coltiva afidi. Il mondo delle formiche è un mondo fantastico, bellissimo, si potrebbe parlare per ore, ma è molto interessante questo aspetto che hanno molte specie, dove vanno ad allevare sostanzialmente gli afidi, quindi si è formata, si è creata con l'evoluzione questa sorta di simbiosi, dove le formiche, alcune specie di formiche, proteggono gli afidi, come in questo caso, questo è un tappeto, è una foglia completamente piena di afidi, proteggono gli afidi dagli attacchi dei predatori, come per esempio le coccinelle, sia lo stadio larvale che lo stadio d'adulto, e allo stesso tempo gli afidi producono questa sostanza per loro di scarto, sarebbe un po' tra virgolette la loro cacca, che si chiama melata, che in realtà è ricca di zuccheri, di cui le formiche sono ghiotte, e quindi c'è questo scambio, è proprio come dicevo, un rapporto simbiotico, sì. E poi abbiamo una bellissima vespina all'Ottoberfest? Sì, 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 ormai questo è il suo titolo, e sostanzialmente questo è un qualche cosa di nuovo, di molto particolare, questa piccola vespa, misurerà circa 2 mm, 3 mm, e le uova che vedete sotto, che sembrano dei boccali di birra, in realtà sono uova di cimice assassina, quella cimice che viene chiamata, nome scientifico, Rhinocoris irakundus, è rossa e nera, ecco, lei si generalmente fa queste uova così attaccate e un po' nascoste in mezzo alle pietre, però ci sono alcune specie, soprattutto di insetti con minoteri come questa vespa, che possono parassitare, quindi questo è un altro rapporto, dopo la simbiosi che abbiamo visto prima, il parassitismo, quindi generalmente qua vengono inoculate le uova della vespa, che poi quando si rispiderà la larva andrà a nutrirsi delle uova o degli stadi giovanili poi del Rhinocoris. Questo è un altro scatto incredibile, questo non si riesce nemmeno capire bene che tipo di animaletto sia, rimaniamo sempre un po' in quel gruppo dei parenti delle cimici, in realtà questo sarebbe più imparentato con le cicali che con le cimici, però rientrano tutti nello stesso ordine che quello degli emitteri, e questa ahimè però è una specie all'Octona, si chiama Ricania speculum, è molto invasiva, qua a Genova ce la ritroviamo ovunque, anche in casa, e tra l'altro gli stadi giovanili come questa, Ninfa, sono molto carini, che hanno queste estrofessioni che escono dalla parte addominale, sembrano proprio dei battufolini, e quando li trovate, sono piccolissimi, quando li trovate sugli steli, se provate a fargli giusto la macro, loro tendono a girare attorno allo stelo, vi vedono, vi percepiscono, quindi seguirla non è una cosa semplice. Da adulti sono completamente diversi, perché hanno una forma un po' a, hanno delle ali a tetto, ok? Sembra un po' un tetto, un insetto che assomiglia vagamente a una farfallina, ma farfallina non è, con queste ali a tetto. E a me questa ce la stiamo trovando veramente ovunque, è una di quelle specie all'Octona che possono andare a sballare un po' gli ecosistemi, i nostri ecosistemi. Sì, perché come è chiaro, quando una specie, diciamo, è aliena, poi sul territorio non ha predatori, o avversari, o diciamo, spesso va in competizione, proprio con altre specie, magari un po' simili, che sfruttano la stessa, si dice, nicchia trofica, le stesse risorse, e quindi può creare dei danni. In realtà ci sono tante interazioni che vengono, diciamo, un po' alterate, dipende un po' dalla specie, però sì, fra competizione, predazione e così via, senza di predatori, come dicevi te, possono portare dei gravi squilibri. Ne abbiamo tantissimi esempi in Italia. Questo è un ragno della famiglia dei salticidi, dico bene? Sì, 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 come dico sempre, questi sono i rappresentanti pucciosi del gruppo dei ragni. È una famiglia caratterizzata da questi due grossi occhioni, ne ha otto, ne hanno otto come, non tutti i rani, ma la maggior parte dei ragni hanno otto occhi. Però hanno sicuramente questi occhioni che li rendono un po' più empatici rispetto ad altre famiglie di ragni. In questo caso, tra l'altro, è un giovanissimo esemplare maschio di Saitis Barbie Pass che stava riposando all'interno della sua tela. Questi ragni fanno la tela solo come protezione, spesso protezione temporanea, non predano con la tela, ma cacciano attivamente come fossero delle tigri, per intenderci, e saltano direttamente addosso, come si capisce dal nome della famiglia, alle loro prede. E quindi questo è un ingrandimento di nuovo abbastanza spinto tant'è vero che invece di usare il mio classico obiettivo macro con cui faccio la maggior parte delle mie foto, che è il LAWA 50 con un ingrandimento del 2-1, in questo caso ho usato, adattato, il LAWA 25-5-1. Questo è questo qua. Questo è un obiettivo che mi è rimasto dal mio vecchio corredo full frame, nasce per full frame, con un semplice adattatore, potete adattarlo anche al micro 4 terzi, e quindi lui parte da un ingrandimento già di 2,5 fino ad arrivare al 5-1. Se poi teniamo conto anche del fattore crop del micro 4 terzi, vi esce fuori una foto da 10 a 1, al massimo ingrandimento. Soprattutto questo è un obiettivo molto complicato da gestire, perché l'ingrandimento è tanto, la profondità di campo è pochissima, soprattutto dal 4 al 5 è proprio complicato, complicato. Inoltre su questo genere di fonti, su questo obiettivo non si può utilizzare il focus stacking. Sì, non si può. Allora, io non sono in realtà un gran amante del focus stacking, anche se poi è una di quelle feature interessanti che ha OEMI System, Olympus, per diversi motivi. Uno, non è detto che si possa fare sempre, cioè molti dei miei soggetti si muovono in continuazione, quindi è inutile trovarci. Seconda cosa, mi comporterei, sono un po' pigro, lo so, mi comporterebbe fare una serie di scatti che mi comporterebbe cambiare computer, trovare i programmi giusti e non ne ho tanto per la testa. Si possono provare a fare, si può provare a fare il focus stacking anche manualmente, qualcuno è bravo, lo sa fare, ci vuole tanta pazienza, soggetti che stanno fermi e un uso e una gestione del flash un po' particolare perché si va tutto in manuale, quindi non è non è proprio una cosa semplicissima, quindi no, tutte le foto che vedete che faccio io anche a ingrandimenti che avranno oltre l'1-1 come questo, per esempio, sono tutti fatti a scatto singolo, questo ora non mi ricordo se era un F11 piuttosto che un F16, io non mi faccio tanti problemi a chiudere il diaframma, è vero, la diffrazione si vede, soprattutto se poi andate a ingrandire, ormai ci sono dei software che recuperano, software per software, preferisco recuperare un po' di dipidezza dopo con uno scatto unico e comunque queste sono lenti che lavorano bene, io ho provato, uso il Laua, ho avuto lo Zuiko 60, ho provato il 90, tra tutti devo dire che il 90 è una bomba rispetto agli altri, visto che ho avuto la possibilità di tenerlo un po' e di provarlo e patisce pochissimo la diffrazione rispetto agli obiettivi che ho avuto prima, però comunque chi più chi meno si riesce a, già mentre vado fra gli F8 e gli F11, però può capitare in alcuni casi un F16, poi io preferisco comunque avere sempre qualche cosa, un punto, a volte mi piace giocare anche con la MAF selettiva, dico la verità, quindi aprire il diaframma e mettere magari un solo dettaglio, un piccolo dettaglio con pochissime profondità di campo, in evidenza e tutto il resto sfocato. E anche in questo scatto immagino che questo esserino di cui mi hai già detto il nome ma che assolutamente non ricordo. Questo è un collembolo, un collembolo, un parente degli insetti, non è un insetto ma un parente stretto degli insetti. Ed è piccolissimo. Sì, sì, questo, allora qua siamo sulla lettiera della faggeta, quindi siamo proprio a terra, nel sottobosco, quella che vedete in sfondo è la trama di una foglia e lui sarà due millimetri, tre millimetri, una roba che passa inosservato, ovviamente se non si conosce un po' la materia, però quando poi si fa ingrandire e ci sono queste forme fantastiche, aliene, questo mi dà sempre l'idea di una caramella gommosa alla fragola, ma sono veramente bellissime. Si si apre un mondo con questi obiettivi e soprattutto poi con l'uso di questo sistema che io ne ho provati diversi ma devo dire che per questi questi scatti qua è veramente il sistema migliore con cui perlomeno io mi ci trovo sicuramente meglio. Anche questi ragnetti salticidi non so se l'ho pronunciato bene sono estremamente piccoli anche io ho avuto modo di fotografarli sono veramente 3-4 millimetri gli esemplari forse più grandi quindi a differenza della tigre che citavi prima questo animaletto è di appena pochi millimetri. Si si parlavo di tigre perché cacciano un po' allo stesso modo però su dimensioni differenti sostanzialmente. parliamo un attimino di materiale tecnico di obiettivi e di flash gli obiettivi hai già citato un paio di volte il macro laua che questo qui è un macro 2x 50 millimetri che su micro 4 terzi col fattore di crop viene un 4x quindi un ingrandimento già notevole per cui bisogna riuscire a chiudere abbastanza il diaframma per avere sufficiente profondità di campo perché siamo ad un equivalente di 100 millimetri su full frame con un un ingrandimento 4 a 1 quindi l'oggetto viene ingrandito quattro volte rispetto alle sue reali dimensioni per fare questo per utilizzare questo tipo di logia di obiettivo è necessario come dicevo chiudere il diaframma abbastanza quindi come ha accennato anche prima intorno all'f11 f16 e poi ovviamente illuminare soggetto sì sì come sempre poi è la cosa più importante e in questo caso molti degli scatti che avete visto li realizzo o con un solo flash diffuso su slitta o come in questo caso con una coppia di flash mf12 della Godox che sono ancora più versatili ma gestiti in modo un po' differente rispetto alla foto che state vedendo questo perché perché il kit che danno diciamo di base per questi flash che comunque sono veramente tanta roba se vi piace la macrofotografia poi anche un po' spinta ve li consiglio sono un po' cioè si rischia con quell'anellone spesso e volentieri soprattutto con queste focali qua di toccare i soggetti di farli scappare quindi la cosa migliore che diciamo che mi sono inventato questa è una mia trovata nel senso che esistono come prima faceva vedere David ecco questa questa diciamo questo supporto con questi bracci snodati che sono molto validi ecco già questo è un primo approccio che sicuramente aiuta molto perché questi due bracci danno la possibilità di attaccare i flash e quindi gestirli come volete anche in modo assolutamente autonomo il problema di questo setup è che quella T dove sono inseriti i due braccetti di nuovo spesso ci porta a toccare il soggetto o comunque a farlo toccare quello che c'è attorno e a farlo scappare quindi io ho fatto un'ulteriore modifica io praticamente ho ideato ho trovato poi ho assemblato semplicemente questa sorta di T invece che si può innestare sulla slitta del commander dei Godox io uso questa tipologia qua ce ne sono diversi quindi si va a inserire sulla slitta il T snodato ovviamente poi si mettono i flash e questo poi lo mettiamo sulla slitta della macchina in questo modo io mi trovo ad avere i flash molto più svincolati e difficilmente vado a toccare il soggetto perché quello che esce di più poi è l'obiettivo sia quando lo uso per fotografie macro classiche o le ambientate che abbiamo visto prima dove questa questo sistema qua è ancora più importante dal mio punto di vista perché in foto come questa quella della rana temporaria i due flash mi hanno permesso di aprire tutte le ombre qua eravamo in pieno giorno quindi c'era sole anche abbastanza fastidioso però mi ha permesso di aprire bene le ombre al di sotto dell'animale quindi non ho un animale un po' in mezz'ombra la foto renderebbe pochissimo con i flash invece vedo proprio come è fatto l'animale e me lo fa risaltare molto molto di più nella foto quindi nella macro ambientata io spesso volentieri uso questi due flash mentre magari nella macro diciamo più classica o comunque la macro oltre all'una uno soprattutto magari quando voglio viaggiare più leggero uso solo questo flash che è un make sulla slitta ma lo diffondo in questo caso con questo questo diffusore fatto in casa non è il massimo sicuramente ma dà degli ottimi risultati come dico sempre il flash ha bisogno della giusta diffusione della giusta gestione perché se no può essere addirittura controproducente in questo in questo tipo di foto quindi un flash un diffusore fatto in questo modo vi permette di avere una diffusione molto omogenea su soggetti anche come magari gli anfibi che hanno una pelle un po' ostica perché è una pelle viscida è una pelle nuda come viene detto che riflette tantissimo la luce in questo modo sicuramente si riesce a gestire meglio e avere risultati migliori sì quindi vediamo un aspetto interessante della tua fotografia che consiste nel avere con te comunque sempre flash e diffusori obiettivi macro obiettivi super grandangolari come quando abbiamo questo genere di fotografia sì questo è fatto col panasonic 9 mm panasonic 9 mm ma abbiamo anche dei teleobiettivi quando facciamo fotografia naturalistica diciamo bird watching e il tutto quindi tu porti con te in questo corredo quando fai delle escursioni perché prima ci raccontavi che la rana l'hai fotografata a 2500 metri sì sì qua ero in realtà un'escursione con la famiglia ma avevo dietro tutto quello che hai detto nel senso che la cosa che mi piace del micro 4 terzi è proprio questa la possibilità di portarti dietro un corredo che ti permette almeno mi permette perché ripeto questo è per quanto riguarda le mie esigenze mi permette di avere dietro da il grandangolo 9 mm a magari un grandangolo uno zoom come il 12-45 il macro che posso già comunque anche solo portando l'Aua arrivare a un 2-1 quindi un 4-1 su micro 4 terzi al 300 col moltiplicatore praticamente io ho coperto un po' tutte le mie esigenze il tutto mi sta in un incumedio compresi flash tutto generalmente li porto tutti e tre mi sta tutto nell'icumedio e mi riempie metà zaino da escursione nel caso di escursione invece magari con il pubblico trekking io comunque mi porto sempre dietro l'attrezzatura sia per i trekking normali sia per quelli fotografici ecco in quel caso io magari porto qualcosa di meno uso un'icu io parlo di icu intendo l'icu della f-stop quindi contenitori per l'attrezzatura in questo caso uso addirittura quello piccolo e mi riesco a portare dietro di nuovo magari porto la 5 che è un po' più piccola mi porto solo il macro mi porto solo un flash per fare macro macro molto ingrandite un grand'angolo e così via magari un pannello led perché poi anche quello è un po' sempre dietro e quindi riesco ad adattare a seconda di quello che poi andrò a fare diciamo un po' la mia attrezzatura il mio zaino io sono sempre per gli zaini ibridi devo avere metà preso dall'attrezzatura e il resto devo portare all'attrezzatura che mi serve per fare escursione abbiamo posto l'accento soprattutto sulla fotografia naturalistica a veramente grandissimi ingrandimenti con i tuoi scatti che mostro nuovamente però nella tua fotografia abbiamo tantissimi altri esempi alcuni molto curiosi come questo genere di fotografia che sembra fatta nello spazio questi sono alieni dello spazio ovviamente fotografati da Marco perché noi non l'abbiamo detto ma tu fai anche escursioni spaziali sì sì mi piace l'astronomia in effetti ma questi sono degli scatti molto particolari che hai realizzato con una tecnica veramente interessante e al tempo stesso hai una serie di argomentazioni molto interessanti per la fotografia naturalistica per quello che riguarda il modo in cui gli animali stessi devono essere trattati durante lo scatto fotografico quindi alcuni animali in certi casi possono essere avvicinati altri animali invece richiedono un certo tipo di attenzione anche quell'esempio che ci hai fatto precedentemente dell'animale che tende a nascondersi quando ci avviciniamo per fotografarlo quindi ci sono tanti aspetti della fotografia che mi piacerebbe chiacchierare con te però il tempo è tiranno quindi direi di chiudere il video qui e se avete piacere andremo a fare altri video su quegli altri commenti che non siamo stati in grado di toccare oggi vi lascio questa foto anzi questa foto come ultima foto così scriveteli i commenti se vi interessa l'argomento comunque il video lo faremo lo stesso perché è troppo interessante bene ti ringrazio David io sono disponibile assolutamente per affrontare altri diciamo altre tematiche legate sempre a questa mia passione sulla naturalistica sulla natura e anche un po' parlare giusto di questa foto qua che fa parte ecco per ora di un piccolo progetto che ho in mente che si fonde anche con uno dei lavori che faccio benissimo grazie tante ciao grazie ciao